Buongiorno, buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere, ipnosi, soluzione, l'ipnosi, dc.s. vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi rispondiamo delle persone che mi chiedono, dottore, non riesco a dimenticare il mio passato, come posso fare per cancellare, distruggere, volatilizzare, senza girare cappelle, senza mettere la famosa tuta, senza di rifacire attimi in giro e senza spendere una montagna di soldi, come posso fare? E io gli ho risposto che tu lo puoi realizzare da solo con il potere della tua mente e del tuo subcosciente oppure con un audio molto potente, unico al mondo dal titolo audio dc.s., dal titolo no al passato negativo, che puoi scaricarti da qualsiasi parte del mondo, completo anonimato e comodamente da casa tua a qualsiasi ora, dal sito della mia associazione, Ipnologi Associati, Los Angeles Beverly Hills, a cui ho ceduto tutti i miei diritti, perché la mia mission, la mia missione è quella di sdoganare l'ipnosi dc.s. vera e professionale per, tra virgolette, mostrarla al mondo che è qualcosa di unico, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da spettacolo e neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale, da cui io sono partito alla finfina. Ottima, nessuno dice il contrario, ma questa è unica, perché ho avuto il pregio e l'onore di aver studiato praticamente, praticamente sul campo partendo dall'ictus, capitato a mio padre con due grandi artisti dell'ipnosi. Vera e professionale con la V maiuscola di Los Angeles Beverly Hills, la dottoressa Rina Prini e il professor dottor Michelangelo Garai. Quindi, ritornando al discorso del passato, quanta rabbia, quanta gente oggi come oggi soffre, più del 70-80% soffre a causa del passato negativo e tante volte neanche te ne accorgi perché così subdolo, così nascosta alla tua coscienza, al tuo famoso io, alla tua volontà, alla tua logica, alla tua critica, la tua razionalità, che è ancora peggio. Infatti, un proverbio francese recita meglio un male conosciuto che un bene sconosciuto. Per cui, quando un problema che ti sta causando danni nella propria salute fisica, nelle proprie relazioni, nel proprio benessere, in senso lato anche ricchezza materiale, spirituale, bene, magari, per non dire sicuramente dalle mie esperienze, è dovuto al tuo passato negativo. Molta gente, faccio un esempio, si meraviglia come mai in certe occasioni, quando il tempo è brutto, al dolore alla schiena, oppure quando vedo una persona gli viene quella sensazione di antipatia e compagnia bella, bene, è il tuo passato negativo che sorge, che risorge nella tua vita. Se tu non lo cancelli e non lo elimini, purtroppo ti causerà danno, anche nei rapporti di coppia purtroppo. Non è colpa tua, anche se sei tua ad agire così, è più forte di te quella forza interiore che si chiama immaginazione subconscia. D'accordo? Non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi fare un'azione, un'azione, scaricarti quest'audio, perché al momento sono sospese le sessioni online di Prozio di CS, ma centinaia di persone del mondo hanno eliminato questo passato, anche con un solo audio mp3 di CS, seguendo le istruzioni molto facile, la prova di un nonno, la prova di un piccolo, la prova di un idiota. Fammi tutte le domande del caso, ma se tu ti senti in colpa e non sai il perché, se tu sei arrabbiato e non sai il perché, se tu hai rimorsi e non sai il perché, oppure lo sai, se tu non riesci a sbarcare il lunario e non sai perché, se tu non riesci a realizzarti e non sai perché, bene, guarda dentro di te, perché lì è la causa e la soluzione, il tuo passato negativo, ok? E risolvilo. Una volta per tutto con delle tecniche vere, concrete, no? Con i bla bla, bla bla, perché se tu fai palestra o fai discipline alternative e rimani sempre lì, beh, chiediti che cosa è successo, ho ottenuto ciò che sto cercando, fai le idee chiare. Fammi tutte le domande del caso e risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi ai miei impegni, visito il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoprosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, seguimi per favore anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino, un bacio, un abbraccio, amica mia e alla prossima, ciao!